Qual è il prezzo al metro quadrato per infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973 e da così tanto tempo ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi il prezzo al metro quadrato per gli infissi è diventato un argomento da bar da domenica mattina. Una volta si parla di calcio, oggi si parla di infissi al metro quadrato perché è stato inserito un prezziario massimo per gli eco bonus, incentivi 50% e 110% quindi tutti vogliono conoscere questo prezzo al metro quadrato, cosa che prima non importava a nessuno. Diciamo che un buon infisso in alluminio fatto come si deve, solo la fornitura dell'infisso senza la posione opera potrebbe costare sui 500 euro al metro quadrato come partenza perché poi potrebbero diventare magari 600 se da un vetro doppio passiamo a un vetro triplo potrebbero diventare magari 700 se andiamo a fare quegli infissi minimali, quelli sottili di design che stanno piacendo tantissimo ad oggi quindi già a quel punto saremo fuori da tutti i prezziari che ci sono nella legato I appunto per gli eco bonus 50% e 110%. Ecco questo importo al metro quadrato che può sembrare un po' più alto rispetto a certe tipologie di infissi ad esempio quelli più economici in PVC, in realtà è un prezzo molto buono perché cosa succede? Un infisso in alluminio è un infisso che dura tantissimo nel tempo quindi durando tanto nel tempo e spalmando quel prezzo per il doppio praticamente della durata media di un infisso costa la metà di un altro, no? Cioè il ragionamento è come quando compri una macchina su una costa 10.000 euro e fa 10 km con un litro l'altra costa 12.000 euro ma fa 20 km con un litro non scegli quello da 10 perché costa di meno scegli quello da 12 perché consuma molto meno a patto che giri perché se fai 100 km l'anno magari farà un'altra scelta e proprio per questo motivo perché ognuno di noi ha delle esigenze diverse è importante fare la consulenza prima di acquistare gli infissi spesso chi deve cambiare le finestre fa 2, 3, 4, ho visto persone che 5, 7 preventivi e più preventivi si fanno più si fa confusione all'interno della propria testa perché ogni rivenditore ti dice delle cose diverse da quello prima quindi è una giungla dove nessuno riesce a capire chi è che realmente sta dicendo la verità se ti affidi alla consulenza con sistema Bisacchi avrai un parere sopra le parti disinteressato perché in quel caso non ti venderò gli infissi ma ti consiglierò quale sarà la scelta giusta da fare in funzione dei preventivi di madre che hai già fatto oppure ti potrò chiedere che cosa chiedere prima di andare a chiedere un preventivo puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza specifica per il tuo caso ciao